Ciglia fino a 7 volte più voluminose e curate giorno dopo giorno con volume Million Lashes Bomb Noir, il primo mascara trattamento. L'Oreol che promette ciglia morbide, intense e definite con un'inedita formula cremosa e delicata composta dal 99% di ingredienti naturali. Un mascara unico nel suo genere, che si prende cura delle ciglia dalle radici le punte avvolgendole con la sua formula balsamo senza profumo. Te lo raccontiamo in questa recensione, scoprilo con noi. Volume Million Lashes Bomb Noir, il mascara trattamento. Il mascara è uno dei prodotti make-up più amati. Farne a meno sembra impossibile eppure se formulato con ingredienti aggressivi può portare all'indebolimento e alla conseguente caduta delle ciglia. In volume Million Lashes Bomb Noir la skin che rincontra il make-up con una formula in balsamo delicata cremosa, in grado di prendersi. Cura giornalmente delle ciglia per renderle più folte, belle e sane dopo ogni utilizzo. Il nuovo mascara della fortunata gamma Million Lashes è un trattamento a tutti gli effetti per ciglia che rende piene e definite grazie alla formula con il 99% di ingredienti naturali. Per un make-up più consapevole e completo. Ciglia 7 volte più luminose, e belle, grazie al suo scovolino moltiplicatore di ciglia. L'Oreal Million Lashes Bomb Noir avvolge ogni ciglia per dare volume dalle radici alle punte. Il risultato sono ciglia dal volume straordinario con un effetto naturale in grado di aprire lo sguardo con assoluta leggerezza. La formula anti-groomy non appesantisce né secca le ciglia, lasciandole morbide e ben districate anche dopo diverse stratificazioni. Il mascara con il 99% di ingredienti naturali. Nel nuovo mascara trattamento di Casa L'Oreal Punta di Diamante è l'inedita formula concentrata con soli 15 ingredienti essenziali. Senza profumo, anti-groomy e poallergenica, impiega un mix di oli naturali derivati da fonti rinnovabili utili per idratare, nutrire e volumizzare le ciglia. Tra gli ingredienti a spiccare è il pullulana, polimero bioprocessato di ultima generazione ottenuto da patata e tapioca, che assicura una lunga durata e una rimozione più che facile. Il mascara è disponibile nell'unica tonalità 01 black, un nero intenso e brillante. Recensione L'Oreal Mascara Volume Million Lashes Bomb Noir. Abbiamo messo alla prova il nuovo mascara trattamento di L'Oreal per circa due settimane con uso quotidiano. Al momento le opinioni online sono poche a causa del recente lancio italiano ma all'estero non mancano di certo le recensioni entusiaste. Due punti sono in molti a parlarne come di un mascara confortevole, leggero e delicato ma con un'ottima efficacia volumizzante. Vediamo insieme come si comporta con utilizzo quotidiano. Il packaging. Si differenzia dagli altri mascara della gamma volume Million Lashes per la finitura lussuosa e trasparente che permette di controllare la quantità di prodotto disponibile. I dettagli dorati lo rendono bello da vedere mentre le dimensioni, compatte e sinuose, consentono di utilizzarlo con praticità. Assente il pack secondario. Lo scovolino. Dotato di 320 setole fini sintetiche, è di tipo cilindrico. Flessibile morbido, avvolge bene ogni ciglia e le districa alla perfezione. Non crea grumi e permette un'applicazione stratificata senza seccare o appesantire le ciglia. Non macchia la palpebra e l'applicazione è ordinata, uniforme e totalmente confortevole. Il colore. La tonalità 01 Black è un nero super intenso che definisce le ciglia regalando profondità e naturalezza allo sguardo. Valorizza tutti i tipi di occhio. Si adatta bene sia per uso diurno che per utilizzo serale, per tutti i tipi di make up occhi. La texture. Cremossa delicata, ricorda molto la consistenza di un balsamo. Come la formula è anti grumi, dunque anche se il mascara viene stratificato più volte non appiccica le ciglia ma mantiene un effetto. Volumizzante leggero e ordinato. Risulta confortevole sulle ciglia, così leggera da risultare impalpabile durante la giornata. Non cola e, aspetto importante, non macchia gli occhiali. Una volta applicato quasi ci si dimentica di averlo indossato. La tenuta. L'Oreal Mascara Volume Million Lashes Bomb Noir non è waterproof e non è sviluppato per resistere ad acqua e umidità. La tenuta è comunque buona, con una durata media del mascara di circa 4-5 ore. Sugli occhi è delicata e risulta molto facile da struccare. Basta un po' di acqua tiepida per rimuoverlo via del tutto. 13,95 euro euro 7,99 in stock 18 new from 7 euro e 60 centesimi spedizione gratis vedi dettagli amazon. It is of Feb 3, 2023 1027 efficacia. L'azione volumizzante è notevole. Come puoi vedere dal confronto fotografico tra il prima e il dopo, il mascara trattamento di L'Oreal volumizza le ciglia con un effetto naturale che rende l'insieme armonioso e inordinato. Districa bene le ciglia, le avvolge con delicatezza, non le secca. Anzi, dopo l'applicazione sono morbidissime. Il nero, brillante e intenso, riempie le ciglia e le definisce senza risultare eccessivo. Già dopo due settimane le ciglia appaiono meno maltrattate rispetto al solito e con un aspetto più piacevole, quasi più corposo. Il risultato è modulabile. Il mascara può essere stratificato in base al volume desiderato senza il pericolo di grumi o ciglia appiccicate come a volte capita con altri modelli. Incepao. Acqua water, benilbeenate, glicerilsterate, ceterilalcol, propanediol, pullulana, stieric acid, glycerin, alcoldenat, pelmitic acid, sodium hydroxide, sodium diahidroacetate, capra il glycol, miristic acid, più barra mei contenci 77499 iron oxides, b269867 barra uno pao, sei mesi dall'apertura l'oreo il volume million lashes bomb noir, considerazioni finali. Si tratta di un buon mascara dall'ottima efficacia volumizzante. Apre lo sguardo con leggerezza, lascia le ciglia morbide anche dopo essere stato stratificato più volte il suo e un nero intenso, brillante. Lo scovolino moltiplicatore di ciglia è flessibile, comodo da usare e riesce ad avvolgere e pettinare ogni ciglia. Il packaging nel complesso è pratico e compatto, con buone rifiniture e il corpo trasparente è un plus da non sottovalutare in quanto consente di controllare le quantità di prodotto disponibili. Confortevole la consistenza, delicata e cremosa. Si strucca facilmente con acqua tiepida ma non resiste all'umidità, la durata è discreta con 4-5 ore di tenuta. Lo consigliamo? Si, se cerchi un mascara delicato e leggero dall'ottima azione volumizzante che sulle ciglia risulti confortevole e non aggressivo. Prezzi e disponibilità. Il nuovo mascara loreo il volume million lashes bomb noir è disponibile in tutti i migliori stores per la cura del corpo, profumerie ed e-commerce al prezzo sopraindicato. 13,95 euro euro 7,99 in stock 18 new from 7 euro e 60 centesimi spedizione gratis vedi dettagli amazon. It is over Feb 3, 2023 10 e 27 potrebbe interessarti anche, i 10 migliori mascara venduti su sefora, foto e descrizioni loreo l'air volume. Mega mascara, la recensione completa recensione Meaty Boy mascara di Diego Dalla Palma, extra volume 12,99 8 euro e 70 centesimi valutazione complessiva 8,7 10 pro, confortevole sulle ciglia effetto volumizzante ottimo leggero e delicato e non secca le ciglia consistenza cremosa simile ad un balsamo, mascara e ampunte e virgola trattamento in unico prodotto scovolino moltiplicatore di ciglia, facile da struccare e acquista.